Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Grandissimo impegno, prestazioni di discreto livello, ma riscontri oggettivi dal punto di vista dei risultati ancora molto lontani. È la fotografia del Marina, che continua a stazionare al penultimo posto della classifica di eccellenza con soli tre punti e che, da qualche giorno, ha cambiato il terzo allenatore in stagione. A fianco di Gianluca Fenucci c'è Vincenzo Noviello, mister è conosciuto a Marina per aver disputato un ottimo campionato come giocatore con ben 28 presenze nel 2004. Allenavo ad Osmo Stazione nel settore giovanile da tanti anni, sei anni, e il mister Fenucci quando è arrivato ci siamo rincontrati dopo parecchi anni perché il mister mi ha allenato in Serie D a Iesi nel lontano 99-2000, quando ero molto giovane. È nato questo rapporto perché poi il mister mi ha incontrato, mi ha seguito durante gli allenamenti e quest'anno ha ritenuto che potessi essere la persona giusta per stare al suo fianco in prima squadra. Dall'ultima sconfitta interna per Trinriti a Duna, subita contro il Val di Chienti, sono emerse indicazioni importanti. Sapevamo della pericolosità, dell'individualità del Val di Chienti, però fino al momento del loro gol la partita è stata fatta bene. Diciamo che le occasioni principali le abbiamo avute noi e potremmo andare in vantaggio. Insomma, la determinazione per raggiungere la salvezza resta una costante. Ci metteremo tutto perché siamo convinti che questa squadra non meriti la posizione attuale che è in classifica. Ci sono dei valori importanti e quindi con il mister siamo decisi e siamo convinti che riusciremo a migliorare le cose. Sull'arrivo di nuovi giocatori al Marina, Noviello resta sul vago, mentre sulla prossima trasferta di Fossombrone dimostra grande fiducia. Adesso vediamo il mercato alle porte, vediamo se poi dovremmo parlare con la società, con il presidente, perché queste cose poi ci penserà più il mister sinceramente. Io non firmo mai per un paregio, però diciamo che sono ottimista, voglio essere ottimista.